Andrea, ciao. Ciao Paolo, ciao a tutti. Ben trovati. Eh sì, dopo un po' di pausa estiva ritorniamo qui al campo perché quest'oggi parliamo di un paio di scarpe, di una serie di scarpe che trovano proprio in pista lo spazio di all'euso. Di una serie di paie di scarpe. Tante, ne abbiamo qui. Sono scarpe da gara col carbonio, anzi paie di scarpe da gara col carbonio che prediligo io come atleta. Sono scarpe con le quali spingere tanto, poi la velocità è in funzione delle vostre capacità. Mi sono reso conto che le scarpe che piacciono a me, con cui mi sono trovato meglio, sono delle scarpe che non hanno la piastra piatta ma che hanno un'incorvatura, che hanno il cucchiaio con la forma cucchiaio nell'avampiede che si avvicina molto al terreno. Mi chiedete sempre qual è la scarpa migliore col carbonio, qual è per te la scarpa più veloce col carbonio. Questa è la mia classifica, ho lasciato fuori qualche scarpa che poteva entrarci ma per un pelo non c'è entrata e altre scarpe che invece non mi sono piaciute per gareggiare o per allenarmi addirittura. Partiamo dalle scarpe che non ho messo in classifica ma che utilizzerò in questo periodo. Le prendo io. Sono due scarpe, grazie Velina. Tutte e due? Adesso faccio questo piccolo preambolo. Le uso in allenamento perché le avevo da testare, perché se no fondamentalmente non le avrei comprate per allenarmi perché una è una scarpa da 309 euro che è l'Alpha Fly 3 e l'altra è la Asics, la Metaspeed, la Edge però non la Sky. Paris. Questa scarpa quindi l'Alpha Fly mi è piaciuta tanto perché è una scarpa molto riposante e la utilizzerò in questo periodo che farò, se il mio allenatore mi farà fare dei medi lunghi da 18 km in su e i lunghissimi maratona che saranno delle belle legnate da 30 e passa chilometri con dei ritmi dai dai 350 ad andare più veloce. Quindi ho bisogno di una scarpa comunque veloce ma molto protettiva. Questa scarpa l'ho trovata nel mio caso molto protettiva, molto rilassante. Il problema grosso è che per me a determinati ritmi faccio fatica a spingerla. Anche l'altra volta che l'ho usata ancora per fare il variato a 353 al chilometro la trovo abbastanza legnosa potrei dire. La Asics Metaspeed Paris Edge, mi raccomando Edge, non la Sky, è quella che fondamentalmente con la Vapor Fly 3 mi ha fatto capire che la piastra piatta non mi piace. Troppo tra virgolette lente quindi infatti la Sky l'ho scartata a priori. Mi sono trovato bene comunque dei ritmi forti perché, l'ho detto, la schiuma non è tra le mie preferite, non è a livelli di altre. Però questa impostazione molto più da pistard mi è piaciuta e quindi la utilizzerò negli allenamenti tipo i 1.200 che farò in questi giorni, i 2.000 e i 3.000. Quindi ripetute, io le chiamo corte ma so che qualcuno le chiama lunghe, ma sono le mie ripetute corte perché il mio allenatore mi fa fare i 5.000 come ripetute lunghe. E le utilizzerò questa scarpa perché l'ho trovata comunque dinamica grazie alla spinta che dà in avampire. Altro piccolo preambolo che mi sono dimenticato di dire prima, questa classifica fondamentalmente, oltre che i ritmi, oltre che i pesi, né i pesi, sono scarpe rivolte a chi non piacciono tipo le Ghost, le scarpe da tallonatori per intenderci. Quindi un utilizzatore di queste scarpe potrebbe essere un amante delle Kimvaro a vecchie, potrebbe essere un amante delle Mizuno Rider o le ultime, a me piacevano le ultime della Mizuno. Ad atleti che piacciono magari le Pegasus, scarpe comunque da avampiedisti, io dico quelle che ti obbligano a correre di tallone. Quindi se vi piace uno Brooks Glycerin e Brooks Ghost, magari questa lista di scarpe che faccio oggi non vi piacerà chissà quanto. Partiamo dal fondo della classifica, così aumenta la Suspense. Di volta in volta vi racconterò i pro e l'icontro di ogni scarpa che abbiamo qua in casa. Questa è quella di Paolo perché è la mia, ti ricordi che fine ha fatto. Di Adora Gara Carbon, altra scarpa dove praticamente qua sotto si sente subito la piastra, mescola stramorbida, quindi è una scarpa molto confortevole ma che ti fa spingere tanto di avampiede. Mi ha ricordato una chiodata, tant'è che su gare corte 5-10 km mi sono trovato benissimo. In mezza maratona si può usare tranquillamente, anche in maratona secondo me, soprattutto se ce l'avete nuova, perché comunque ha una buona ampiezza nell'avampiede e risulta una scarpa che si può utilizzare a lungo. Ovvio che se continuate a spingerla questa va forte, se siete un pochino più in difficoltà magari vi sedete un po' troppo ma va bene lo stesso. Avete almeno la morbidezza del tallone perché, come hai detto bene, l'intersuola in anima è morbidissima, stupisce veramente e si concordo con quello che ti ho detto per la mia esperienza. La cosa bella di questa scarpa è che ha uno spazio in avampiede abbastanza ampio, quindi come dici bene è confortevole. Grosso, grossissimo problema secondo me è la durata. Dura molto poco la mescola, nel mio caso si era bella che è bucata, si era lasciata andare, nel tuo caso vedo che sta già cedendo, è una scarpa davvero che dura relativamente poco. Il mio consiglio è di utilizzarla prettamente per le gare e per le gare più corte, però ripeto anche in maratona può dare il suo, non l'ho testata in maratona ma mi dà l'idea che possa andare tranquillamente. Altra scarpa piuttosto particolare. Bravo, sì, questo colore poi che ci avevo andato da provare. Non è una scarpa questa da avampiedisti puri, questa è una delle poche scarpe che ho messo in classifica, che è consigliata più per gare da mezza maratona fino alla maratona e non per le gare più corte. Questa conformazione molto molto particolare ci faceva correre proprio di mesopiede e poi di fare la rullata. In gara tipo maratona, e questa l'ho utilizzata in maratona a Pisa, devo dire che è stata super, è instabilissima quando me la devo allacciare. Ad allacciare non vi dico, continui a tremare perché non riesci a stare dritto col piede. In gara invece l'ho trovata molto stabile, il cuneo mediale qua per assurdo dà stabilità. È una scarpa, io dico la crociera, quando hai iniziato a correre ti dimentichi anche di correre perché proprio devi appoggiare il piede, ti fa fare la rullata. Un ottimo movimento, un ottimo grip, un ottimo comfort. Attenzione che è una scarpa da utilizzare, di solito mi piace come i vestiti, metterli su non da lavati, cioè quelli nuovi, li compro nuovi, gli taglio le etichette e me li metto su perché sennò già per me non sono nuovi. Le scarpe la stessa cosa ormai non le testo più pre-gara ma le utilizzo direttamente in gara. Questa invece è una scarpa diciamo da domesticare, da consumare un attimino. Le prime volte che l'ho utilizzata questo stacco in mezzo mi dava quasi fastidio, poi mi sono abituato tant'è che in maratona quasi non mi accorgevo neanche più di avere una scarpa così strana. L'unico contro secondo me è per le gare corte dove se appoggi direttamente di avampiede e non senti più la spinta è una scarpa da utilizzare a ritmo maratona o mezza maratona. Deviate Nitro 3 l'ho utilizzato solamente una volta ma siccome avrei messo la Deviate Nitro Elite 2 che avevo già utilizzato per un bel po' di volte, ho provato questa e mi sono reso conto che aveva delle caratteristiche più meglio in determinate occasioni. Ho deciso di mettere l'A2, quindi diciamo che abbiamo la sicurezza dell'A2 che ho già testato per tanto con delle migliorie di questo modello. Peso praticamente identico, sicuramente più cicciotta perché gli abbiamo guadagnato delle quote, è diventata praticamente al limite del legale per le gare, quindi 40 mm nel tallone. Ed è una scarpa super leggera, cioè quando la metti al piede sembra quasi di non averla, ti fa correre molto molto di avampiede, mescola Nitro è tra le mie preferite. Molto bene in gare corte, adesso andrà bene anche per le gare più lunghe, credo che io mi spingerò fino alla mezza maratona. Allora la maratona vediamo, vediamo perché mi sa che arriva qualcos'altro di nuovo che voglio provare e mi sa che quest'anno forse faccio solamente una maratona, se non la seconda come accompagnatelo ancora. È una scarpa però da spingere praticamente sempre, quando si smette di spingere secondo me si va a perdere un po' di stabilità, ecco. Mi piace perché il grip è il solito di Puma che è pazzesco, se ti ricordi quando abbiamo fatto l'uscita anche sulla ghiaina ho chiuso abbastanza stretto senza scivolare. Ti danno sicurezza ma è una scarpa davvero tanto da spingere, quindi 5-10 km è una mezza maratona se non scoppiamo perfette, sulla maratona dobbiamo essere sicuri di non andare in crisi. Se andiamo in crisi finiamo la benzina diventa davvero una scarpa instabile e non eccelsa ecco per un finale di gara da stanchi. Se invece finiamo a bomba allora Mizuno si porta dietro una vittoria alla mezza di Cefalù e un secondo posto alla maratona di Pisa. Questa Rocket X2 che è la tua, la mia invece si porta a casa alla mezza. La mia è nessuna vittoria. La mia si porta dietro la mezza di casa di Bellaria, corse in un'ora e sette. A maggio l'anno scorso. Se ti ricordi quel giorno lì non avevamo mai messo ai piedi questa scarpa, la mettiamo ai piedi per fare la mezza come primo test. Ho corso 1,7 forse col caldo dormendo tre ore quel giorno e il merito era comunque di questa scarpa. Mi è piaciuta tanto perché la mescola è molto morbida, mi piace tanto la tomaia perché ricorda quella della mia Vaporfly 1. Per il resto comunque è una comodità davvero top. Tallone inesistente ma non si sente quando si corre, anzi. Questa è una scarpa da spingere ma quando smetti di spingere comunque la corsa è naturale, mi piace e va via lo stesso bene. Dal mio punto di vista per come l'ho usata io è più una scarpa fino alla mezza. Ci si può fare la maratona, la Giovanna Apis ci ha corso la maratona a Parigi con queste, però secondo me è un po' attirata. In casa a Oca io trovo altre scarpe ma ne parlerò nella mia comparativa. Bravo, proprio quello che volevo dire, non hai 40 mm questa scarpa ma se non dovessi avere quella in prima posizione, è questa qua è la scarpa che consiglio sempre come scarpa per atleti veloci perché davvero secondo me è velocissima, a prezzo è super buona, si trovano delle ottime offerte in giro e l'ho messa al secondo posto solo avete perché al primo posto ho trovato la scarpa che ho paura di non trovare mai più. E niente, però io la utilizzerei anche in maratona questa qua tranquillamente, anzi senza nessuna remora. Per di più ti dico, eh sì Alfa Fly, Vapor Fly 4%, non era 40 mm ma se me la dovessero dare adesso per correrci la maratona ce la ricorrerei subito. Non è quella che ha corso la maratona di Firenze, questa è quella che ha corso la Monza Resigone e si vede che è distrutta e questo è l'ultimo modello che, l'ultimo modello, l'ultimo colore che è uscito. Sono al terzo paio di On, Cloud Boom, è una scarpa stranissima, davvero chi la prova la deve provare subito per farle ripetute, lo dico sempre, se fate il riscaldamento con questa scarpa la vorreste buttare via, se ci correte invece già subito le ripetute è una scarpa. Ma raccontiamo l'anedoto di questa scarpa, arriva a redazione un martedì, chiamo Andrea e gli dico ci vediamo stasera al campo perché mi sarei andato a allenare anch'io, ti porto queste scarpe. Lui le mette, io faccio sempre il riscaldamento con la scarpa da lento, la mette su, io faccio il mio lavoro, facevo un medio mi sembra, tu facevi 3x3000, ho cercato ogni tanto di guardarlo per capire come stava andando, vedevo come correva, andava forte, però lui non ha detto assolutamente niente. Mentre stavo finendo i miei ultimi giri del medio, lui ha finito, si incammina a piedi contro di me sul rettilineo e mi dice, è la mia scarpa. Basta, ho capito tutto, ed è stato così. Ed è vero, la mia scarpa, qua devo ringraziare anche un po' Stefano Dion, che sapeva che mi piacciono un casino. Parto dal battistrada, buon grip, mescola Helion HF, che è stranissima da provare, ma mi piace un casino quando si corre forte. Tomaia mi piace tanto perché fondamentalmente l'ho trovata la plastichina che dicevo prima della Rocket X2. Come le penneva Polfly. L'ho trovata davvero top perché corsa di avampiede, stabilità, comunque mi è piaciuta tanto, non è una scarpa da 40 mm nel tallone e l'ho trovata anche ottima in maratona. Tanti storcevano un po' il naso perché non era alta come le altre, non era morbida come le altre, ma è proprio secondo me quello che mi è piaciuto di questa scarpa. Una scarpa che mi faccia correre di avampiede, che mi faccia fare delle curve pulite strette e che quando ero stanco, bollito da maratona, che io non finisco mai una maratona forte, non mi facessero cedere troppo e le ho trovate e ho detto super. Inutile dire che le ho utilizzate su qualsiasi distanza e su qualsiasi gara che dovevo vincere o giocarmi. Tipo ieri sera. Quando Paolo mi chiedeva che scarpa usi stasera per capire quale stavo testando e gli dicevo uso la Cloud Boom Maker e gli dicevo ok oggi devi vincere o devi cercare di vincere. Esatto, o vuoi vincere, quello discorso. L'unico grosso problema di questa scarpa, che poi al dire il vero lo dice anche Onna, sulla scatola c'è scritto 4 maratone. E in effetti, secondo me, durano un pochino di più di 4 maratone anche a livello prestativo, ma ragazzi siamo sui 250 km massimo come durata di scarpa. Il modello precedente mi si era rotto un occhiello sui 230 km, lì perché io le stringo tantissimo. Questa l'ho distrutta sulla Monza Resegone. Diciamo che comunque non è una scarpa che dura tantissimo. Così sapete qual è la scarpa preferita in carbonio di Anderso Fientini, almeno per quest'anno. Per assurdo non è una scarpa morbidissima. Ultima cosa che ho notato che mi piace nelle scarpe in carbonio di successo è o mescola morbidissima con piastra in adamanti, quindi durissima, o il contrario, come questa qua, ha una piastra che ovviamente in carbonio è bella dura, ma ha questo Leon HF che è molto più sodo di altre, come potrebbe essere la mescola della Rocket X2. Però quando dici questa cosa mi viene in mente una scarpa che forse è un po' diversa, però ha questa filosofia, che è la Dios Pro 3 in questo caso di Adidas, che aveva una mescola un po' più dura, in quel caso non c'è una piastra, c'è una struttura con i rods sempre in carbonio, quindi un attimino diversa come conformazione, però è molto più morbida quel tipo di struttura. Ed è quel compromesso, bilancio da una parte un po' più il duro, dall'altra un po' più la flessibilità, che dà un po' l'uso tutto finale molto interessante. Un motivo per cui non ho messo la Dios Pro 3 è che non l'ho utilizzata, l'ho solamente testata, cioè testata, l'ho utilizzata due volte, aveva proprio messo i piedi neanche per gareggiare, ho avuto la 2, due modelli, due modelli dove ho distrutto i rods, mannaggia i rods, e si mescola molto dura con rods che non sono così tanto duri. Vi lascio con la mia provocazione, queste sono le scarpe che io prediligo da corsa degli avampiedista, però mi chiedo, una scarpa che io invece ho reputato molto lenta, tipo Vaporfly 3, la Metaspeed Sky e altre scarpe che non ho messo in classifica, non so se le consiglierei comunque in generale a un atleta tallonatore un pochino più lento. O più di mesopiede. Perché è questa la mia idea, quindi non insultatemi o insultate Paolo quando farà uscire il suo video, credo di sentirmi di consigliare lo stesso le scarpe spinte, queste scarpe qua da avampiedista anche a chi tallona, a meno che corra davvero lento per finirle le gare. Perché credo, per assurdo anche Paolo, che è molto meno avampiedista di me, fondamentalmente non prendiamoci in giro, le scarpe che ti sono piaciute sono più o meno quelle che sono piaciute anche a me. Quindi il mio dubbio grosso è... Con qualche eccezione, ma sì. Vaporfly 3, che a me non ha fatto impazzire, anzi chiedo scusa per la recensione che avevo fatto, pensavo che fossi io che ero fuori forma, invece era la scarpa che non mi andava troppo a genio, poi abbiamo capito perché, è una scarpa che non è andata a genio a tanti atleti, tanti atleti si sono trovati male. E tutti li vogliono le due. Quindi anche i tallonatori si sono trovati meglio con le due, e quindi la domanda fondamentalmente è, credo che le scarpe da avampiedista per fare le gare siano comunque da preferire anche per gli atleti tallonatori, perché quando si è in gara si spinge di avampiede. Ripeto, poi ci sono atleti che dicono, devo fare la maratona, la voglio finire, allora in quel caso sì, va bene, prenditi una scarpa in carbonio, che comunque ti aiuta perché sono più leggere e hanno delle mescole stramorbide, però magari potrei consigliargli una Sky o una Vapor per dire ecco. In questo c'è da dire una roba, tutto chiaro il discorso e condivido, l'unica eccezione secondo me è la maratona, perché se sei uno che è impostato più corsa di mesopiede piuttosto che tallone, in maratona non spingerai mai a un ritmo molto forte dove ti porti un po' in avanti, e quindi è più facile che tu impatti in un modo per tempo più naturale, e lì magari una scarpa sempre in carbonio, sempre veloce, sempre con mescola bellissima, magari con questa impostazione come tu hai detto è preferibile. Voglio sapere anche cosa ne pensate di questo, comunque il tuo discorso sulla maratona secondo me ci stava, ma è il problema che tanti atleti la maratona, invece che correrla a 4,15 come potrebbero decino di corrla a 4,30, perché non hanno volumi, perché non hanno tempo per tirare su. Troppo gap tra il tempo in mezza maratona e quello che poi riescono a fare in maratona rispetto a quello che dovrebbe essere un divario normale. Io spero che l'abbiate visto fino in fondo, mi sa che questo video è durato tanto. Non fa niente. Vi ringrazio se l'avete visto tutto, vi ho lasciato apposta la provocazione alla fine, così parate e ve li guardate fino alla fine. Mi raccomando mettetevi piace e fatemi sapere no perché sono davvero curioso. Bene. Ciao a tutti. Ciao e grazie. E alla prossima. Ti vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.